Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. La relazione del DEF che però serviva per poter fare l'incontro con i sindacati di domenica e il consiglio dei ministri di lunedì, primo maggio. Allora adesso cosa è successo? Che hanno fatto un consiglio dei ministri lampo, hanno riapprovato una nuova relazione al DEF e quindi Meloni si dice certa che i tempi ci saranno e si potrà fare tutto. Che pasticcio è stato questo? Perché è stata solo una figuraccia o qualche cosa di più? Beh di certo non è stata una bella figura per la maggioranza ma credo che sia stato proprio un momento di allentamento della tensione, cioè non ci si è resi conto, visto che non c'era un problema politico, maggioranza compatta, astensione da parte dell'opposizione. Un 42 assenze in Parlamento, un allentamento della tensione? No, allentamento della tensione nel senso che non ci si è resi conto dell'importanza di quel voto, non c'è un problema politico perché non c'è stata una crepa nella maggioranza, non c'è un problema rispetto al risultato finale perché tutto si ricompone e si va al consiglio dei ministri del primo maggio per l'approvazione definitiva del DEF, però c'è una figura non brillante nella gestione dei lavori parlamentari. C'è un problema di qualità della classe dirigente? No, no, io non penso che ci sia un problema di qualità della classe dirigente anche perché nessuno di noi ha il misuratore della qualità della classe dirigente a sei mesi dall'inizio della legislatura. Credo che ci sia un po' di noviziato semmai. Un noviziato. Va bene.